Ciao, io sono Antonella e questa è la nostra famiglia. Ci troviamo a Bologna, a casa, ed è il nostro terzo giorno di smart working. Io sono Stefano, lui è Fabio e questa è la nostra postazione di lavoro per il prossimo mese. Fabio, ti stiamo disturbando? L'ho chiamata, adesso deve rispondere. Comunque, vabbè, Giulia fa pastificio con BIO e Gennari e io faccio le mie tre, giusto? Sì.